Partiamo da Mandas, alle 8 del mattino, e attraverseremo gran parte dell'Ugliastra. L'importanza del trenino verde è che è un volano di sviluppo per le zone interne. La peculiarità è che si possono attraversare delle zone dal punto di vista ambientale ancora intatte. La casa ne scatturisce come una risposta a quello che è il mantenimento di quello che è la nostra memoria storica nel rispetto del materiale. L'azienda esiste già da più di 20 anni. Noi generalmente trattiamo tutte le erbe della macchia mediterranea, un percorso green al 100%. La cooperativa è nata nel 1971, quindi un gruppo di donne ebbe l'idea di preservare questi saperi. In Sardegna la tessitura è quasi tutta nelle mani delle donne. In Sardegna la tessitura è un po' di 20 anni. In Sardegna la tessitura è un po' di 20 anni.